Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Abilissimo para rigori ha collezionato record di imbattibilità e trofei su trofei dall'alto dei suoi due metri. Edwin van der Sarra, nato nel 1970, è considerato da molti uno dei migliori portieri della storia. Nel 90 lo acquista l'Ajax. Con i lanceri gioca nove stagioni vincendo 14 trofei, tra cui una Champions, una Coppa UEFA e una Intercontinentale. Nel 99 la Juve lo sceglie per il dopo Peruzzi, ma le due annate in bianco-nero non sono positive, con due scudetti persi in volata. Il passaggio al Fulham rivitalizza la carriera di van der Sarra, che torna ad altissimi livelli, tanto che il Manchester United lo ingaggia nel 2005. Con i Red Devils vince 12 titoli, compresa un'altra Champions nel 2008. Dopo 20 anni di carriera e ben 130 presenze con la nazionale olandese, si ritira nel 2011 e torna all'Ajax con un ruolo da dirigente.